Parliamo ora di un progetto molto ambizioso presentato lo scorso 30 ottobre 2023 nella sala della loggia del maschio Angioino di Napoli che ha come focus i ragazzi e i disagi che affliggono gli adolescenti in questo periodo storico. Around School è il titolo del film di denuncia sociale voluto diretto e promosso dal regista James Lamotta. Diamo il benvenuto stamattina proprio qui a Mattina Live. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito a ritrovarsi ed è molto bello dare voce a tutto ciò che si fa soprattutto per il sociale. Lei è conosciuto a Napoli ma anche all'estero proprio per il suo impegno sociale ma come nasce questo progetto? Chi sono i protagonisti? A chi si vuole rivolgere esattamente? Soprattutto i protagonisti come già detto nel cappelletto iniziale sono i ragazzi. I ragazzi che sono le nostre leve del futuro soprattutto e toccare tematiche sociali perché da lì e da quell'età lì che si deve andare ad agire soprattutto in un periodo storico dove la violenza purtroppo non è tanta. Ma non solo perché il mio progetto è Around School che vedrà protagonisti loro ma la loro creatività soprattutto quello che vogliamo mettere in campo e l'ho voluto donare perché essendo attore regista da molti anni all'estero come è stato anche detto ho voluto partire dalla mia di municipalità dove sono cresciuto e poi lo espanderemo in tutta Napoli gratuitamente proprio per dare un'opportunità e voce a chi non ha voce. Le tematiche più grude in qualche modo ma anche quelle più vicine al mondo degli studenti sono insegnanti nelle loro vite nelle famiglie colpite appunto da da queste problematiche il bullismo il cyberbullismo la violenza di genere sono trattati dal punto di vista in questo caso del minore. Perché ha voluto adottare questa scelta narrativa e tecnica? Questa scelta narrativa nasce proprio da un'esigenza di poter far sì che è la mia poi di tecnica. Io faccio comunicazione solo attraverso il cinema e teatro perché tanto è vero che siamo impegnati in tanti progetti e anche perché il ragazzo è figlio ormai di tutto ciò che è la mediaticità. Infatti quelli i progetti che noi faremo proporre ai ragazzi è il loro linguaggio. La camera è solo un occhio che scruta e va a vedere nei loro cuori come andare poi a denunciare quello che hanno dentro. È quello che voglio mettere proprio il focus più che andare a far vedere che poi è un mio modo proprio di girare e di rappresentarlo. L'atto di violenza in sé che i ragazzi già lo vedono nelle crime series in altre in altri tipi di serie su Netflix o chi per esso sia lo faccio vedere attraverso una delicatezza di quello che può essere il messaggio e a confronto con il rapporto genitore figlio adulto ragazzo. Come noi ho risposto ai ragazzi è stato difficile confrontarsi? No no chiaramente no perché sono anni che ormai cerchiamo di portare adesso nell'ambito scolastico ma non solo perché faccio formazione a tanti ragazzi e li ascolto e ascoltarli è importante perché oggi si è velocissimi soprattutto ripeto con la mediaticità con gli smartphone e quant'altro il ragazzo viene isolato quasi placato di quello che può essere sia e si dice vabbè vedete un video non lasciaci stare invece no io cerco di ascoltarli tanto e capire cosa ci vogliono dire. Quale tematica è stata più complessa ad argomentare per delicatezza o per ritrosia da parte dei ragazzi? Potrei racchiudere in violenza di genere però quasi tutte perché dal soggetto che lo rappresenta è quello perché io dico più che andare a trovare l'atto di violenza che c'è stato perché poi questo progetto nasce proprio da un'idea di voler far denunciare tutti i tipi di violenza però io vado a lavorare sull'omertà di chi assiste e non denuncia più di chi del violentare perché si sanno nelle dinamiche psicologiche di chi subisce violenza spesso è costretto o ha paura di denunciarlo invece chi è vicino ha un grande compito io lo faccio attraverso quello che è la macchina da presa. Sicuramente un'opportunità per sostenere aiutare i giovani alla luce di questa esperienza secondo lei di cosa hanno timore i ragazzi e come reagiscono? Una bellissima domanda perché è una riflessione che ho fatto poi post lockdown hanno paura del loro domani del loro futuro e di essere giudicati di essere giudicati ed era triste perché creai proprio un progetto si chiamava Locked proprio per uscire fuori da quello che era il lockdown e li vedevo attraverso il pc e la cosa che maggiormente dicevano io ho paura del mio futuro ho paura di quello che mi possa accadere hanno meno spensieratezza e questo è triste per un ragazzo dai 12 ai 18 anni oggi perché abbiamo proprio due facce due strati ragazzo occhi è proiettato e già bomba è lanciato nel proprio futuro occhi è nel limbo totale. C'è bisogno forse di più ascolto da parte degli adulti? Eh sì lo dicevo prima è tanto tanto ascolto perché il ragazzo viene solo additato ma io dico se è arrivato a ciò è figlio di generazioni passate è colpa nostra e dico aiutiamoli ad esprimere ciò che hanno di bello per questo nel nostro progetto quello che abbiamo pensato perché poi lì al Maschiangioino c'erano le massime cariche nostre istituzionali la Ferrante l'Astriano il Costa che ci hanno diciamo mi hanno dato l'istituzionalità di quello che possa essere il progetto c'è da ascoltare ragazzi. Lei che cosa invece ha acquisito in qualche modo ha imparato da questa avventura umana e professionale? Tanta umanità per l'appunto ma soprattutto che in tutti gli strati sociali c'è una problematica da dover andare a smembrare e non è vero solo nel quartiere di provincia anzi lì c'è una maggiore solidarietà e rispetto della figura professionale più in alto si va il problema è maggiore da quartiere a quartiere il solo espanso in tutte le municipalità e questo lo vedo che è una problematica c'è ovunque da dalla prima all'ultima municipalità che abbiamo certo noi la ringraziamo ancora una volta per essere stato in nostra compagnia stamattina quindi ringraziamo James Lamotta per averci portato il suo progetto Around School noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break sempre qui a Mattina Live Ciao 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 Ciao